Ciao a tutti, questo è un invito alla lettura del libro di Brianna West intitolato 101 riflessioni che cambiano il tuo modo di pensare. Come spiega il professor Yuval Noah Harari nel libro Sapiens da animali a dei, c'è stato un tempo in cui l'Homo sapiens non era l'unica specie di esso umano ad aggirarsi sulla Terra. Anzi, è probabile che ne esistessero addirittura altre sei, fra cui l'Homo neandertalensis, l'Homo solensis e l'Homo erectus. Perché l'Homo sapiens è sopravvissuto fino ad oggi mentre gli altri hanno interrotto la loro ascesa sulla scala dell'evoluzione? Dobbiamo ringraziare la sua, cioè la nostra, corteccia prefrontale, di cui conserviamo tuttora la struttura ossea. La capacità di pensare in modo complesso ci ha permesso di organizzare, coltivare, apprendere, insegnare, istruire e tramandare conoscenze che ci hanno consentito di plasmare il mondo adattandolo alle nostre esigenze. E' grazie all'immaginazione che siamo stati in grado di trasformare il pianeta e renderlo come lo conosciamo oggi. In questo senso, l'idea che sia il pensiero a modellare la realtà non è solo un concetto astratto, ma un vero e proprio dato evolutivo. Con il pensiero e il linguaggio, infatti, abbiamo potuto creare un mondo all'interno delle nostre menti e, nel bene e nel male, ci siamo evoluti fino alla società odierna. I grandi maestri, gli artisti, gli insegnanti, gli innovatori e gli inventori, e in generale tutte le persone felici, sono giunti alla stessa conclusione. Per cambiare in meglio la propria esistenza, per prima cosa è necessario cambiare la propria mente. Come ricorda Ryan Holiday in The Obstacle is the Way, sono stati proprio loro a tramandarci verità senza tempo. Il pensiero è il primo passo verso il cambiamento. Siamo noi i padroni della nostra mente. Gli ostacoli che incontriamo lungo il percorso sono essi stessi il percorso. Spesso capiamo di dover cambiare radicalmente il nostro modo di pensare solo quando raggiungiamo il picco, o l'abisso, del nostro malessere. Questa consapevolezza, tuttavia, crea anche possibilità che non si sarebbero mai presentate se non fossimo stati forzati a imparare qualcosa di nuovo. Del resto, cosa ha spinto i nostri antenati a sviluppare l'agricoltura o la medicina? La risposta è semplice, l'istinto di sopravvivenza. Gli elementi che stanno alla base del nostro mondo sono nati per far fronte a paure e bisogni primari. Se ci sforzassimo di considerare i problemi, non più come crepe nell'edificio della nostra esistenza, ma come spiragli di consapevolezza e mattoni per costruire una vita migliore, usciremmo finalmente dal labirinto della sofferenza e faremmo una scoperta meravigliosa. La felicità. La missione dell'essere umano è una sola, imparare a pensare. Da qui apprendiamo come amare, condividere, coesistere, comprendere, donare, creare. Credo che il nostro dovere fondamentale sia realizzare il nostro potenziale, per il nostro bene e per quello del prossimo. Tutto ciò che scrivo nasce da un'idea che mi ha cambiato la vita, perché è proprio così. Sono le idee a cambiare la vita, ed è stata proprio questa prima idea a rivoluzionare la mia. Capitolo 1 8 modi in cui il tuo inconscio ti impedisce di vivere la vita dei tuoi sogni Ogni generazione manifesta una propria monocultura, una forma di governo o un sistema di convinzioni che vengono accettati inconsciamente come verità assoluta. Non è difficile, per esempio, intuire quale fosse la monocultura dominante della Germania degli anni 30 o nell'America del 1776. A quei tempi e in quei luoghi a nessuno sarebbe venuto in mente di mettere in dubbio cosa fosse giusto o sbagliato, anche se, con il senno di poi, in alcuni casi sarebbe stato meglio farlo. Sviluppare uno sguardo oggettivo sugli effetti della monocultura prevalente, però, è un altro paio di maniche. Quando un'idea viene assimilata come verità assoluta, è difficile coglierne la natura culturale e soggettiva. Senza neanche accorgercene, tutti noi abbiamo interiorizzato una versione ben precisa di ciò che è considerato normale e ideale. Finendo per adattarci a un modello che non corrisponde ai nostri desideri. Da qui deriva gran parte del nostro malessere. Qualsiasi monocultura tende ad appropriarsi degli aspetti che danno maggior significato all'esistenza umana. Ad esempio il patriottismo, la religione e il senso di sé. Ed è possibile individuare diversi modi in cui il sistema nel quale viviamo ci condiziona nel profondo. Tanto che siamo noi, stessi, a metterci bastoni fra le ruote non appena cerchiamo di uscire dai suoi ingranaggi. Eccone otto esempi fra i più comuni. Il primo, credi che per realizzarti sia necessario capire cosa vuoi davvero e puoi cercare di ottenerlo. Ma in realtà la tua struttura psicologica non ti permette di prevedere cosa ti renderebbe felice. Come spiega Daniel Gilbert in Stumbling on Happiness, il cervello umano è in grado di percepire solo ciò che conosce già. Quando pensi di sapere cosa vuoi dal futuro, in realtà stai solo cercando di riprodurre una soluzione o un ideale che ha funzionato nel passato. E quando le cose non vanno come vorresti, ti abbatti e senti di aver fallito solo perché la situazione non corrisponde esattamente alle tue aspettative. È però probabile che la realtà sia migliore di come l'avevi immaginata. Ma in un modo nuovo e sconosciuto, che il tuo cervello etichetta come sbagliato. Morale della favola, vivere il presente, non è un'utopia riservata ai maestri zen e agli illuminati. Anzi, è l'unico modo per non lasciarsi sopraffare dalle illusioni. Solo così il tuo cervello imparerà a capire davvero. Numero 2 Pensi che il successo sia un punto di arrivo. Quindi potrai considerarti davvero felice solo quando riuscirai a scattare l'istantanea perfetta della tua vita. Tendiamo a convincerci che un momento isolato della nostra vita possa rappresentarla nel suo complesso. Siamo talmente abituati a credere che il successo sia un punto d'arrivo, un traguardo in cui abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi, da usare lo stesso parametro per il presente. Potremmo dirci felici solo se gli affari andranno a gonfie vere o se il nostro discorso di presentazione farà colpo sugli ascoltatori. Dimentichiamo che ogni cosa è transitoria e che un singolo istante non potrà mai racchiudere in sé tutte le sfaccettature dell'insieme. Non dobbiamo arrivare da nessuna parte. È inutile affannarsi lungo la strada perché in fondo ci attende una sola inevitabile meta, la morte. Il successo non consiste nel realizzare i nostri obiettivi ma nel crescere mentre ci impegniamo per realizzarli. 3. Pensi che seguire l'istinto significhi cercare solo la felicità ed evitare a tutti i costi la paura e il dolore. Se stai pensando di fare qualcosa che ami davvero e che ti coinvolge anima e corpo, è naturale provare paura e dolore. Quando ti esponi ti rendi vulnerabile. Non farti frenare dai sentimenti negativi. Sono soltanto segnali del fatto che stai intraprendendo una strada che ti spaventa e che quindi vale la pena di percorrere. Se non desiderassi davvero farlo, non proveresti alcuna emozione. Paura uguale interesse. 4. Tendi a creare drammi e problemi inutili perché hai paura di vivere appieno la vita. Andare in crisi senza un reale motivo è una vera e propria strategia di evitamento. Un modello di comportamento messo in atto per proteggere se stessi e fuggire dalle proprie paure. Pensi di provare rabbia o tristezza per un problema di cui tu stesso sei artefice, ma non è così. In realtà, dietro al tuo desiderio di creare complicazioni, si nasconde semplicemente la paura di lasciarti andare e vivere la vita che vorresti. 5. Ritieni che per cambiare le tue convinzioni sia necessario adottare una nuova linea di pensiero, anziché creare situazioni che le confermino. 6. Una convinzione è un pensiero in cui credi perché un'esperienza vissuta lo ha reso evidente. Se vuoi cambiare la tua vita, devi cambiare le tue convinzioni. Se vuoi cambiare le tue convinzioni, prendi coraggio e vivi esperienze che le rendano inconfutabili ai tuoi occhi, non il contrario. 6. Consideri i problemi come ostacoli che ti impediscono di raggiungere i tuoi obiettivi, mentre invece ti indicano il cammino. L'imperatore e filosofo Marco Aurelio scrisse Un impedimento all'azione è uno stimolo all'azione. L'ostacolo sulla via diventa esso stesso la via. Fine della citazione. Ovvero, incappare in un problema ti obbliga a fare qualcosa per risolverlo. Questo ti conduce inevitabilmente a pensare e a comportarti in modo diverso, a fare scelte inusuali. Il problema diventa un catalizzatore che ti permette di realizzare la vita che hai sempre desiderato. Una bella spintarella che ti farà uscire dalla tua zona di comfort. Numero 7. Sei convinto che il tuo passato definisca chi sei oggi e, peggio ancora, che sia una realtà immutabile. In verità, la percezione che hai di te stesso cambia insieme a te. Le esperienze vissute nel passato hanno molteplici sfaccettature e sei tu a decidere quali far prevalere. Un determinato ricordo, una sensazione, un'emozione, i fatti nudi e crudi. E ciò che provi in quel momento a farti compiere la scelta. In molti rimangono prigionieri del proprio passato, lasciando che li incaselli o li perseguiti, semplicemente perché non sono consapevoli del fatto che è proprio il passato ad averli condotti fino a qui, alla vita che desideravano. Questo non vuol dire minimizzare eventi dolorosi e traumatici o far finta che non siano mai accaduti. Significa piuttosto accettare quei momenti e riuscire a collocarli nella cronologia della propria evoluzione personale. Numero otto, ti lamenti, ti accanisci o tenti in tutti i modi di cambiare gli altri, le situazioni e le cose, ma arrabbiarsi significa riconoscersi. Il più delle volte ci alteriamo quando identifichiamo nell'altro un aspetto di noi stessi che non riusciamo ad accettare. A un certo punto della vita sei stato indotto a credere che alcuni tuoi comportamenti, in particolare quelli dettati dall'inconscio, non fossero accettabili. Quindi li hai repressi e hai fatto di tutto per tenerli a bada. In fin dei conti, però, non si può dire che questi comportamenti ti dispiacciono. Perciò, quando riconosci in un'altra persona un atteggiamento che tu hai dovuto imbrigliare, perdi le staffe. Non perché lo disapprovi, ma perché devi lottare contro il desiderio di assecondarlo. Gli aspetti che amiamo negli altri sono quelli che amiamo in noi stessi. Gli aspetti che odiamo negli altri sono quelli che non riusciamo a vedere in noi stessi. Le persone di maggior successo nella storia, i grandi maestri, coloro che vengono considerati geni assoluti nel proprio campo e nella propria arte, hanno una cosa in comune, oltre al talento. Una routine rigida e specifica. Quando una cosa viene definita di routine, si tende a etichettarla come noiosa, l'opposto di ciò che è considerato desiderabile. C'è stato inculcato che la felicità deriva dall'incessante ricerca di qualcosa di più, di nuovo, di sorprendente. Ma avere una routine non significa solo rimanere seduti alla scrivania dell'ufficio 5 giorni su 7. La tua routine potrebbe essere visitare un posto nuovo ogni mese, o, paradossalmente, non avere alcuna routine. Il punto non è cosa tu faccia nella tua routine, ma cosa fa la routine per te. Infonde sicurezza e stabilità al tuo subconscio tramite azioni ripetute e risultati prevedibili. Non importa com'è la tua quotidianità, importa solo che tu stabilisca una routine e che ti impegni a seguirla. L'abitudine plasma l'umore e l'umore nutre la personalità. Senza contare che essere preda delle proprie impulsività impulsività è un ottimo modo per far accadere tutto ciò che non si vuole. Non sono le gratificazioni temporanee a generare una felicità autentica, sono necessari costanza e spirito di sacrificio. Tuttavia c'è un modo per alleviare questa fatica, integrare nella propria vita una serie di norme che diventino talmente consuete da non pesare più. Ecco perché avere una routine è così importante e perché le persone felici tendono ad averne una e a seguirla scrupolosamente. Si pensa che l'umore varia a seconda delle preoccupazioni, dei fattori di stress o degli avvenimenti che ci capitano nel corso della giornata. Ma non è così. Lo psicologo americano Robert Thayer sosteneva che l'umore è dettato dalle abitudini. Per esempio da quanto dormiamo e come ci muoviamo, da cosa ci passa per la testa e quanto spesso, insomma non è un pensiero isolato a mandarci in tilt, ma la ripetizione di quel pensiero che ne consolida l'effetto e ci convince che sia valido. Numero due, impara a lasciare che siano le decisioni consapevoli a dettare il corso della tua giornata, non le tue paure o i tuoi impulsi. Una mente impulsiva è un campo minato, senza disciplina, concentrazione, punti fermi e autocontrollo sei come una banderuola al vento ed è facile che tu finisca per desiderare qualcosa che non vuoi veramente. Stasera voglio andare a bere con gli amici invece di prepararmi per la presentazione di domani. Sul momento sembra un'idea lettante, ma sul lungo periodo potrebbe rivelarsi disastrosa. Non vale la pena di mandare all'aria un'importante riunione di lavoro per una serata alcolica. Crearsi una routine significa imparare a mettersi al volante delle proprie giornate prendendo decisioni consapevoli e lasciarsi alle spalle tutto ciò che non conta davvero. Numero 3 La felicità non sta in quante cose fai, ma in come le fai. Fare tante cose non è necessariamente un bene. Non si raggiunge la felicità sperimentando di continuo, ma sperimentando ciò che si ha già in maniera sempre nuova. La società in cui viviamo non fa che ripeterci che il fare deve essere il motore di ogni singola decisione. E così ci ritroviamo paralizzati dal terrore di essere infelici perché non facciamo abbastanza. Numero 4 Quando organizzi le tue attività quotidiane secondo una routine regolare disattivi la reazione di attacco o fuga perché non devi più affrontare l'ignoto. Questo è il motivo principale per cui molte persone temono il cambiamento, mentre chi vive seguendo una routine consolidata ne ricava un gran senso di benessere. Disinnescare la paura dell'ignoto permette di godersi appieno le cose. Numero 5 Da bambini avere una routine ci dà sicurezza, da adulti ci dà uno scopo. Potrebbe apparire strano, ma questi due sentimenti si somigliano. Perché sono entrambi generati dalla paura dell'ignoto. Quando eravamo piccoli non sapevamo distinguere la destra dalla sinistra. Figuriamoci rispondere a domande tipo Perché sono vivo? Oppure Questa cosa che non ho mai fatto prima sarà spaventosa o dolorosa? Ora che siamo adulti possiamo trarre conforto dalla routine Perché abbiamo gli strumenti per dire So affrontare questa situazione perché l'ho già fatto in precedenza. Numero 6 La routine dà un senso di appagamento perché conferma una decisione già presa. Poniamo che tu abbia deciso di pubblicare un libro E che ti impegni a scrivere tre pagine ogni sera per tutto il tempo necessario a completare la stesura. Ogni volta che lo fai riaffermi non solo la tua scelta di iniziare l'opera Ma anche la tua capacità di portarla a termine. Non c'è modo migliore di sentirsi appagati. 7 Grazie alla routine il corpo trova la sua regolarità e la strada verso il flow. Cos'è il flow? Probabilmente lo sai già. Essere nel flow significa essere completamente assorbiti da quello che si sta facendo. Così presenti nell'azione che ogni pensiero si dissolve. Allenando il tuo corpo a rispondere a determinati segnali Ad esempio ore 7 mi sveglio, ore 20 inizio a scrivere Riuscirai a entrare e restare nel flow con naturalezza Grazie alla forza dell'abitudine. Numero 8 Quando non ci diamo una routine Insegniamo a noi stessi che la paura è un campanello d'allarme Invece di concentrarci sul risultato. L'assenza di routine è terreno fertile per la procrastinazione. Senza una routine nella nostra vita si aprono spiragli In cui l'inconscio si insinua dicendo Beh, ora ti meriti proprio una pausa Anche se in realtà sei in ritardo con una consegna. Se invece per te fare una pausa a quell'ora È un'abitudine consolidata Potrai concedertela con serenità Perché lo fai sempre. L'intelligenza emotiva è una prerogativa dell'essere umano La più potente e forse la più sottovalutata Siamo convinti che le azioni quotidiane Debbano essere fondate su una base logica e razionale Eppure a ben guardare Arriviamo alle stesse conclusioni Sia dopo lunghe lucubrazioni Sia dopo un battito di ciglia Come ricorda Malcolm Gladwell Nel libro In un batter di ciglia Il potere segreto del pensiero intuitivo I nostri politici Tendono a ignorare il lato umano Delle questioni sociali E penso sia superfluo Citare i dati sui divorzi Per sottolineare Che non siamo in grado Di sceglierci il partner giusto Né del resto Di portare avanti una lunga relazione Molti sono convinti Che la cosa più intelligente da fare Sia annullare del tutto le emozioni Per trasformarsi in macchine efficienti Prodotti esemplari del nostro tempo In pratica veri e propri robot Ingranaggi ben oliati E digitalizzati del consumismo Che agiscono in modo altamente produttivo E così ci condanniamo all'infelicità Le persone che invece hanno piena consapevolezza Di ciò che provano Sanno come esprimere Elaborare Scandagliare E governare l'esperienza emotiva Perché sono sedute nella cabina di pilotaggio Tengono saldo il volante Delle proprie esistenze Che vivono fino in fondo Ecco perché dovremmo prenderle a modello Vediamo quindi cosa non fanno Per essere emotivamente intelligenti Numero uno Non danno per scontato Che il mondo in cui vivono Emotivamente una situazione Corrisponda alla realtà dei fatti O risultato sperato Sono consapevoli Che le loro emozioni Sono risposte personali A ciò che accade E non strumenti di misurazione scientifica Della realtà Accettano che tali reazioni Siano intimamente legate Al loro vissuto Anziché alla realtà oggettiva Numero due Non gettano le loro fondamenta emotive Nel mondo esterno Se le nostre emozioni Non sono determinate Dalle altre persone Significa che sono Una nostra responsabilità Capire che siamo alla base Di ciò che ci accade Significa sfuggire alla trappola Dell'accettazione passiva Cioè credere che sia l'universo Ad averci fatto un torto E dunque aspettarci che l'universo Che sia l'universo A porvi rimedio Numero tre Non sono certe di sapere Cosa le renderà davvero felici Il nostro sistema di riferimento Nel presente Si basa su quanto ci è successo Nel passato Quindi non abbiamo Strumenti validi Per capire cosa ci renderà Davvero felici nel futuro Piuttosto Tendiamo a metterci al riparo Da esperienze passate Che non ci sono piaciute Se invece accettassimo Che ogni esperienza Racchiude in sé Aspetti positivi e negativi Saremmo molto più aperti Nei confronti di qualsiasi situazione La vita ci presenti Numero quattro Non pensano che avere paura Significhi essere sulla strada sbagliata L'indifferenza è un avvertimento Un segnale che sei sulla strada sbagliata Avere paura invece Vuol dire che hai a cuore qualcosa E stai camminando nella giusta direzione Per perseguirla Ma le tue vecchie convinzioni O i tuoi traumi irrisolti Si mettono di traverso O meglio Chiedono di essere guariti Per poter proseguire Numero cinque Non avvertono l'esigenza Di essere felici A tutti i costi Perché sanno che la felicità È una scelta Credere che la felicità Sia un ininterrotto Stato di gioia È un'illusione Le persone emotivamente intelligenti Si prendono il tempo Per elaborare le emozioni E le esperienze Si sentono libere Di vivere appieno I sentimenti che provano Istante per istante Ed è proprio in questo Abbandonarsi al loro sentire Che trovano a pagamento Numero sei Non permettono Che gli altri Decidano per loro Sono consapevoli Che la società Può condizionarci Con pensieri Convinzioni E mentalità Che non ci appartengono Per superare Questi condizionamenti Prendono atto Delle proprie posizioni Riflettono Sulle proprie origini E decidono consapevolmente Se un sistema di riferimento Faccia o meno Al caso loro Numero sette Non sfoggiano Un autocontrollo ferreo Le persone emotivamente Intelligenti Non arginano I sentimenti E non li reprimono Al punto da non provare Più nulla Tuttavia Sono in grado Di modulare La reazione emotiva In funzione Del contesto In cui si trovano Non annullano Le emozioni Le gestiscono In maniera efficiente Numero otto Sanno Che un'emozione Non uccide Hanno sviluppato Abbastanza resistenza E consapevolezza Da sapere Che anche Le situazioni peggiori Non dureranno Per sempre Numero nove Selezionano Le amicizie Sono consapevoli Che intimità E fiducia Si costruiscono Con il tempo E l'impegno Dunque bisogna scegliere Con chi intraprendere Il viaggio Questo non significa Essere diffidenti Ma solo Attenti A quali persone Far entrare Nella propria vita E nei propri cuori Sono gentili con tutti Ma si aprono Con pochi Numero dieci Non confondono Un brutto momento Con una brutta vita Sanno Cos'è L'estrapolazione Il meccanismo Psicologico Che proietta Il presente Nel prossimo futuro Facendoci credere Che il brutto momento Che stiamo vivendo Sia sempre esistito E sempre esisterà Invece si tratta Solo dell'ennesima Esperienza di vita Transitoria Le persone emotivamente Intelligenti Ne sono consapevoli Quindi si concedono Di avere una brutta giornata Sanno di esseri umani Di essere umani Ed è in questa assenza Di resistenza Che trovano la serenità Capitolo 4 Come tornare estranei Dopo essersi amati Quando ci innamoriamo Una persona Che prima era quasi sconosciuta Diventa il centro Del nostro universo Una volta che la storia D'amore finisce Però la rispediamo Nell'anonimato Da cui era venuta Impariamo a dimenticare Ci forziamo A dimenticare Cerchiamo diversi stratagemmi Per colmare La sua assenza Le dinamiche Che si innescano Al termine di una relazione Sono più rivelatorie Della relazione stessa La sofferenza È una maestra Molto più severa Della felicità Ma si può davvero Tornare a essere Due perfetti sconosciuti? In realtà Non si può cancellare Ciò che si è vissuto insieme Forse possiamo solo Trasformare Questa persona Nella nostra mente Non è più Quella che conosceva A menadito Le nostre preoccupazioni quotidiane Che ci vedeva Senza vestiti Che sapeva Cosa ci avrebbe fatto piangere Quanto profondamente La amassimo Quando le nostre vite Ruotano intorno a qualcuno Non è possibile Sradicarlo di netto Anche se ne rimane Solo un pallido ricordo Qualcosa Resta sempre I vostri posti Le vostre battute Le vostre canzoni È successo A ciascuno di noi Al supermercato All'improvviso Iniziano a trasmettere Nelle casse Una delle vostre canzoni Del cuore Ed è in quel momento Che ci sentiamo di nuovo Nell'orbita Di quella persona E forse Non abbiamo mai smesso Di ruotare Intorno a lei È possibile Dimenticare La data del compleanno Di qualcuno Che abbiamo amato O le prime volte Vissute insieme Che siano Di natura sessuale O meno Gli anniversari Tornano davvero A essere giorni Qualsiasi Sul calendario Le promesse Che vi siete fatti Perdono significato E valore Dopo che vi siete lasciati Oppure vanno Seppellite solo Perché non c'è Altra scelta La nostra mente Ci impone Di andare avanti E il nostro cuore Può solo Cercare di obbedire Mi piace pensare Che in qualche modo Una persona Si ama Per sempre Oppure significa Che non la si è mai Amata davvero Una volta Che scatta La scintilla La chimica Di entrambi Subisce Un cambiamento Permanente Penso Che alcune ferite Siano così Difficili Da rimarginare Che non possiamo Rischiare Di farle riaprire Non posso credere Che cancelliamo Una persona Che abbiamo amato Perché non ci importa Più di lei L'amore Non è un bene Di consumo Mi chiedo E in fondo Lo penso Se a volte Non siamo costretti A rinunciarvi Per necessità Ognuno di noi È al centro Del suo piccolo Universo Quando la nostra galassia Incontra quella Di un'altra persona Basta una breve interazione A cambiarci per sempre Certe collisioni Ci distruggono Ci trasformano Modificano La nostra traiettoria Ci fondiamo E poi ci separiamo Sopraffatti Dall'idea di perdere Ciò che credevamo Di sapere In ogni caso Espandersi È inevitabile Quando una storia Finisce Si scoprono cose nuove Sull'amore Sul suo potere Sul dolore Lancinante Che è in grado Di causare Uno spazio vuoto Nel cuore E nel letto Quel vuoto Sarà mai di nuovo Riempito Dalla persona Che l'ha provocato? Difficile rispondere Quel vuoto Potrà mai essere Colmato Da un'altra persona O apparterrà sempre A chi c'era prima? Ancora più difficile dirlo All'inizio Siamo tutti estranei Ma le scelte Che facciamo In amore Appaiono spesso Inevitabili Alcune persone Ci sembrano Irrazionalmente Irresistibili Altre Sono anime Affini Ecco perché Compagni di banco Compagni di vita Ma anche vicini di casa Amici di famiglia Cugini Fratelli E sorelle Trovano naturalmente Un posto speciale Nel nostro cuore Come se fossimo nati Per stare insieme a loro Certo È una bella sensazione Ma non è questa La forma di affetto Che desideriamo Con tutte le nostre forze Tutti noi aspettiamo Che un altro universo Arrivi a collidere Con il nostro A trasformarci Laddove noi Non riusciamo a farlo Da soli Sappiamo che dopo la tempesta Torna la quiete Certo Ma sappiamo anche Che dopo lo sconvolgimento Che l'amore ha portato Nel nostro cielo Le stelle Non saranno più le stesse All'inizio Siamo tutti estranei Ma tendiamo a dimenticare Che raramente Scegliamo Chi torna a esserlo Capitolo 5 16 caratteristiche Di una persona Socialmente intelligente Forse non ti sei mai chiesto Quali siano le caratteristiche Che rendono una persona Socialmente intelligente Ma di certo Ti è capitato Di incontrare Una persona Socialmente inetta Che ti ha messo a disagio Nel peggiore dei casi Anche in senso fisico Le buone maniere Sono un segno Di intelligenza sociale E culturale Eppure Sembra che oggi Essere ben educati Sia fuori moda Come se Appiattisse La personalità In favore di un comportamento Uniforme E disciplinato Certo Vogliamo avere Interazioni sociali Che siano reciprocamente Gradevoli Ma non è necessario Reprimere le nostre reazioni Limitandoci ad annuire E a dispensare Sorrisi di circostanza Le due cose Non si escludono A vicenda Le persone Socialmente intelligenti Pensano E si comportano In una maniera Che va oltre I confini imposti Dal culturalmente Accettabile Comunicano con gli altri E li mettono A proprio agio Senza sacrificare Se stessi O le loro opinioni Solo così Possiamo creare Connessioni autentiche Con chi ci sta intorno Assecondando Una funzione Che il nostro cervello È programmato A desiderare Che ci appaga E ci fa crescere Ecco le caratteristiche Fondamentali Delle persone Socialmente intelligenti Numero uno Non cercano A tutti i costi Di scatenare Una reazione emotiva Nell'interlocutore Non puntano A sbalordire Chi hanno di fronte In gigantendo I propri traguardi Nel contrario Elemosi Non ho commiserazione Enfatizzando Le proprie disgrazie Di solito Questo stratagemma Viene adottato Quando l'argomento Di conversazione Di per sé Non susciterebbe Reazioni emotive Particolarmente forti L'interlocutore Si sente quindi A disagio E obbligato A fingere Numero due Non esprimono Giudizi netti E insindacabili Su persone Temi Politici O idee Sapete Qual è il modo Più veloce Per passare Da stupidi Dire cose tipo Questa idea È sbagliata Magari lo è per te Ma se esiste Deve essere sembrata Giusta a qualcun altro Le persone intelligenti Dicono invece Io non capisco Questa idea E non sono d'accordo Esprimere opinioni In termini assoluti Significa non essere In grado Di percepire Le tante prospettive Che esistono Su una determinata Persona O idea Rivela chiusura Mentale E scarsa Lungimiranza Numero tre Non cercano Di smentire Subito Le critiche Che ricevono Né rispondono Con reazioni emotive Violente Arroccandosi Nelle loro Posizioni E chiudendosi a riccio È difficilissimo Cercare di avere Una relazione matura Con le persone Che alla minima critica Attaccano Chi ha osato Mettere in dubbio Il loro comportamento Peggiorando così La situazione Le persone Socialmente intelligenti Ascoltano le critiche Prima di controbattere Avere una reazione emotiva Di pancia Senza prima riflettere Significa solo Mettersi sulla difensiva Numero quattro Non confondono L'opinione Che hanno di qualcuno Con un dato Di fatto Inoppugnabile Le persone Socialmente Intelligenti Non esprimono Giudizi Tipo Quello È un idiota Come se si trattasse Di una verità assoluta Dicono invece Con quella persona Ho vissuto Un'esperienza Negativa Che mi ha messo Profondamente A disagio Numero 5 Non giudicano Gli altri Basandosi Su comportamenti Isolati Non sentenziano Tu fai sempre così O Tu non fai mai così Per avvalorare La propria tesi Le loro argomentazioni Iniziano con Io credo che E non con Tu sei Queste espressioni Fanno sì che L'interlocutore Non si senta minacciato E di conseguenza Sia più ben disposto A cogliere Il punto di vista Dell'altro Intavolando Una conversazione Fruttuosa Numero 6 Parlano chiaro Vanno al nocciolo Della questione Senza girarci Troppo intorno Si esprimono Con calma In maniera semplice Concisa E misurata Si concentrano Sul veicolare Un messaggio Anziché Suscitare Una reazione Nell'interlocutore Numero 7 Riconoscono Quando è il caso Di fare un passo indietro In altre parole Sanno che il mondo Non gira Intorno a loro Sono in grado Di ascoltare Un'altra persona Senza sentirsi Chiamati in causa Sono capaci Di accantonare Il loro punto di vista Per provare A comprendere Quello altrui Senza pensare Che tutto Vada interpretato Attraverso La loro sensibilità Individuale Numero 8 Non rinfacciano Agli altri La loro ignoranza Quando accusi Qualcuno Di essere nel torto Stai sollecitando Una reazione Difensiva L'interlocutore Alzerà Una barriera Che difficilmente Lo metterà In condizione Di considerare Il tuo punto di vista Prova invece A esordire Con un'affermazione Positiva Ad esempio Interessante Non ci avevo mai pensato Da questa prospettiva E solo in seguito Presentare La tua opinione Di recente Ho imparato Che E sempre coinvolgendo L'altra persona Nella conversazione E quindi Cosa ne pensi? In questo modo Creerai un terreno Fertile Per un dibattito Più aperto Dove potersi Confrontare Anziché Chiudersi Sulle proprie Posizioni Iniziali Numero 9 Danno valore Ai sentimenti Altrui Valorizzare i sentimenti Degli altri Significa Accettarli Senza usare La logica Per sminuirli Smontarli O cambiarli Un esempio Tra tutti Oggi sono triste E perché mai Non ti manca niente E fondamentale Chiarire Che ciò che vale Per i sentimenti Non vale necessariamente Anche per le idee Ci sono moltissime idee Che non hanno bisogno Né meritano Di essere valorizzate Ma i sentimenti Vanno sempre Riconosciuti E rispettati Dare valore All'emotività Di una persona Significa Dare valore Alla persona stessa Anche se al posto suo Non proveremo le stesse sensazioni Significa attribuire valore All'individualità altrui Anche quando è diversa Dalla nostra Numero 10 Riconoscono Nel loro lato oscuro Le caratteristiche I comportamenti E le inclinazioni Che trovano sgradevoli Nelle altre persone Il disprezzo Verso un politico incapace Potrebbe essere Una proiezione Del proprio timore Di essere poco intelligenti O qualificati Trovare insopportabile L'atteggiamento passivo Di un amico Potrebbe essere Indice Della propria inclinazione A sottomettersi Alla volontà altrui Non è sempre facile Come fare due più due Ma una reazione emotiva Forte E la spia inequivocabile Di una correlazione Se davvero provassi Un senso di rifiuto Per qualcosa Te ne allontaneresti E basta Numero 11 Non discutono Con le persone Che cercano solo la lite E non il dialogo Hai presente Quando durante una discussione Qualcuno inizia a tirare fuori Argumentazioni improbabili O usare una logica Discutibile Solo per avere L'ultima parola Le persone Socialmente intelligenti Sanno che non tutti Vogliono davvero Dialogare Crescere Imparare dagli altri E creare connessioni Quindi sanno bene Quando interrompere Le comunicazioni Numero 12 Ascoltano Per capire Non per rispondere Quando ascoltano Un'altra persona Si concentrano Su quello Che sta dicendo Non pensano Già a cosa risponderanno E la cosiddetta Metapratica Conversazionale Del mantenere Lo spazio Numero 13 Prima di postare Qualcosa online Si chiedono Se lo mostrerebbero A un genitore A un bambino O a un datore di lavoro Molto probabilmente Qualsiasi cosa Tu decida di postare Ti sembrerà inutile E obsoleta Nel giro di qualche mese A parte questo Se pubblica un contenuto Di cui non ti senti sicuro Significa che non sei onesto Con te stesso Ma lo fai solo pensando Di compiacere gli altri Numero 14 Non si considerano I detentori della verità Non dicono Hai torto Ma Penso che tu abbia torto Numero 15 Non avvelenano il pozzo E non ricorrono A fallace A dominem Solo per avere La meglio In una discussione Avvelenare il pozzo Vuol dire Attaccare L'interlocutore Sul piano personale Per distogliere L'attenzione Dalla sua Argomentazione Possibilmente valida Perché non sia In grado Di smontarla Per esempio Se un goloso Di cioccolata Dicesse Non penso Che i bambini Dovrebbero mangiare Dolci tutti i giorni Una persona Socialmente intelligente Non risponderebbe Da che pulpito Viene la predica Ma riuscirebbe A comprendere Il valore oggettivo Dell'affermazione A prescindere Da chi la esprime In genere Peraltro Proprio Chi è toccato Direttamente Da una determinata Questione Riesce a capirne Davvero L'importanza Anche se a prima vista Potrebbe sembrare Ipocrita Numero 16 Sanno che la prima regola È stare bene Con se stessi Il segreto Delle persone Socialmente intelligenti Sta nell'aver capito Che il modo In cui Ci si relaziona Con gli altri È lo specchio Del modo In cui Ci si relaziona Con se stessi Capitolo 6 Se hai paura Vuol dire Che sei Sulla buona strada Quando andiamo Incontro a un cambiamento Sentirsi a disagio Sulle spine Del tutto normale Purtroppo Spesso confondiamo Queste sensazioni Con l'infelicità E dunque Cerchiamo di evitarle Invece Dobbiamo resistere E stringere i denti Se vogliamo Aprirci a nuovi orizzonti Di comprensione Spezzare le catene Dell'abitudine E costruire Un cambiamento reale Questo tipo di malessere È quindi Un segnale Molto utile Ecco alcuni effetti Indesiderati Che ti fanno capire Che sei sulla buona strada Numero 1 Ti sembra di rivivere Le crisi della tua infanzia Ti pare di essere tornato bambino E di avere a che fare Con gli stessi problemi di allora Questo non significa Che tu non li abbia superati Ma solo che stai diventando Consapevole Di ciò che pensi E senti In questo modo Puoi intervenire Con cognizione di causa E cambiare davvero le cose Numero 2 Ti senti di perso E disorientato Sentirti perso È la prova del fatto Che ti senti più radicato Nel momento presente Che vivi la realtà Per quello che è Anziché Per come ti piacerebbe O immaginavi che fosse Ci vuole un po' Per abituarsi A questa sensazione E all'inizio Ti sembrerà Di aver smarrito la via Quando invece È vero il contrario Numero 3 L'emisfero sinistro Ti sembra offuscato Quando inizi ad affidarti Più spesso All'emisfero destro Del cervello Cioè Segui le tue intuizioni Impari a gestire le emozioni Dai spazio alla creatività Potresti avere l'impressione Che funzioni Dell'emisfero sinistro Siano offuscate Concentrarti Organizzarti O tenere a mente Piccoli dettagli Potrebbe risultarti Più difficile Numero 4 Avverti improvvise Ed eccessive Ondate di rabbia O tristezza Così intense E da non poterle ignorare Le emozioni Rompono con forza Quando è arrivato Il momento di affrontarle Sta a noi Imparare a riconciliarci Con queste sensazioni Smettere di opporvi Resistenza E prenderne piena coscienza Così facendo Saremo noi A governare loro E non il contrario Numero 5 Dormi poco O troppo A orari inusuali E irregolari Ti accorgi Di aver bisogno Di dormire Molto di più O molto di meno Ti svegli nel cuore Della notte Con un pensiero fisso Ti senti sovraccarico Di energia O completamente svuotato Senza mezze misure Numero 6 Qualcosa di importante Sta cambiando O è appena cambiato Nella tua vita Può trattarsi Di un trasloco improvviso Un divorzio Un licenziamento Un guasto irreparabile Alla tua auto Numero 7 Senti un forte bisogno Di stare per conto tuo L'idea di uscire Con gli amici Nel weekend Ha perso ogni attrattiva I problemi degli altri Ti prosciugano le energie Anziché destare Il tuo interesse Questo significa Che ti stai ricalibrando Numero 8 Fai sogni vivi E intensi Che ricordi Quasi sempre Nel dettaglio I sogni Sono il mezzo Tramite cui Il tuo subconscio Cerca di stabilire Una comunicazione Con te O di proiettare Un'immagine Della tua esperienza Quindi è chiaro Che la tua mente Sta cercando Di dirti qualcosa Non hai mai sognato Così tanto E così intensamente Numero 9 Hai ridimensionato La tua cerchia di amicizie Non sopporti più Le persone negative Il problema Delle persone negative È che raramente Sono consapevoli Di essere Non te la senti Di avere un confronto Diretto con loro E hai ancora Meno voglia Di frequentarle Quindi tendi A prendere le distanze Numero 10 La vita Che un tempo sognavi La vita Che un tempo sognavi Ti sembra inafferrabile Ciò di cui Non ti rendi conto È che stai costruendo Una realtà Ancora migliore Di quella Che avevi immaginato Più in armonia Con la persona Che sei davvero E non con quella Che avevi fantasticato Di essere 11 Ti sembra Che i tuoi stessi pensieri Siano i tuoi peggiori nemici Sta iniziando A prendere consapevolezza Del fatto Che sono i pensieri A modellare la tua vita Devi indagare a fondo La tua mente E spingerti Fino a volerne Assumere il controllo Per capire Di averlo sempre avuto Numero 12 Ti sembra Di non sapere Più Chi sei veramente Le illusioni Su cui Le illusioni Su chi Credevi di essere Si stanno dissolvendo È una fase delicata In cui non hai più certezze Sei in evoluzione Tuttavia Sappi che Quando si cambia In peggio Non si prova incertezza Ma rabbia E chiusura Metterti in discussione È un segnale Che stai cambiando In meglio Numero 13 Sei consapevole Della strada Che hai ancora Da fare Ciò significa Che conosci La tua meta Finalmente Sai chi sei E chi vuoi diventare Numero 14 Hai intuizioni Che ti mettono A disagio Ti accorgi Se qualcuno Sta fingendo Se una relazione Non ha futuro O se stai Per perdere il lavoro In genere L'ansia Tra virgolette Irrazionale Proviene da Presagi del subconscio Che decidi Di ignorare Perché ti sembrano Privi di fondamento Logico Numero 15 Vuoi far sentire La tua voce Arrabbiarti Perché ti hanno Messo i piedi In testa O ti sei fatto Influenzare Troppo dagli altri Significa che riesci A pensare Con la tua testa E ad amarti Mettendoti Al primo posto Numero 16 Prendi coscienza Di essere Il solo responsabile Della tua felicità E della tua vita Essere emotivamente Autonomi Può sembrare Terrificante Perché se fai Un passo falso Non puoi dare La colpa A nessun altro Al contempo È l'unico modo Per essere davvero liberi Il gioco Vale la candela Credimi Capitolo 7 I sentimenti Che vuoi reprimere Stanno cercando Di dirti qualcosa L'intelligenza emotiva Non ci trasforma In santoni Imperturbabili Che non provano Mai sensazioni negative Non significa Esercitare Un controllo Ferreo Sui propri pensieri E sull'effetto Che avranno su di noi Ne reagire Con placido distacco A qualsiasi situazione Essere davvero Dottati di Intelligenza emotiva Vuol dire Vivere a pieno Ogni sensazione Senza limiti O eccezioni Con una consapevolezza La cosa peggiore Che potrebbe accadere Alla fin fine È pur sempre Solo una sensazione Che come tutte le altre Passerà Proprio così Una sensazione Prova a immaginare Il peggior scenario possibile E a pensare Alla sensazione Che ti trasmette Come ti fa sentire E quali preoccupazioni Suscita in te E di conseguenza Che ripercussioni Ha sulle tue emozioni Paura Un nodo allo stomaco Il cuore in gola Gli spilli nel petto I morsi della fame L'autostima sotto i piedi La sensazione Di non valere niente Di non appartenere A nessuno E a nessun posto Interessante peraltro Notare che le sensazioni fisiche Vanno e vengono Mentre nella nostra testa Concepiamo la sofferenza Come uno stadio Di assedio prolungato Cerchiamo di sfuggire Alle emozioni Perché ci è stato insegnato Che hanno vita propria E che Se ci lasciamo coinvolgere Ci travolgeranno Siamo in grado Di provare Un impeto Di entusiasmo Che duri più di qualche minuto E quanto dura Invece la rabbia Quanto durano Tensione Depressione E tristezza Permangono più a lungo Non è così? Settimane Mesi A volte anni La spiegazione È che non si tratta Di emozioni Bensì di sintomi Abbi un attimo Di pazienza Ne parleremo a breve È cruciale capire Che la sofferenza È il rifiuto Di accettare Le cose come stanno Da un punto di vista Etimologico La parola viene Da un composto latino Che significa Letteralmente Portare su di sé Ossia Tollerare Sopportare Resistere A qualcosa di penoso Guarire le proprie ferite Vuol dire Concedersi Di provare Queste sensazioni Di sotterrare traumi Figuracce Lutti E lasciare campo libero Alle emozioni A cui Nel momento in cui Abbiamo vissuto Certe esperienze Abbiamo sbarrato la strada Dobbiamo filtrare Ed elaborare Ciò che abbiamo dovuto Reprimere Per andare avanti Forse Anche per sopravvivere Tutti abbiamo paura Di provare Sentimenti troppo intensi È quello che ci è stato insegnato Non amare troppo O ci resterai male Non essere troppo intelligente O verrai bullizzato Non mostrare di aver paura O passerai perdebole Ci hanno insegnato A modellare il nostro comportamento Sulle aspettative altrui Da piccoli I nostri genitori Ci hanno messo in punizione Quando facevamo i capricci Perché la nostra esperienza emotiva Li metteva a disagio Non c'è da stupirsi Se reagiamo così anche oggi Cosa voglio dire con questo? Che non sei tu Ad avere paura Di provare emozioni Troppo forti Sono gli altri A definire eccessive E meno drammatiche Le tue reazioni A farti sentire sbagliato Sono gli altri Che non sanno come gestirle Che vogliono tenerti Al guinzaglio Sono gli altri A non volere Che tu provi E mostri emozioni Non tu La tua impassibilità Non è assenza di emozioni Anzi Ne provi troppe Tutte insieme Perché non hai mai Imparato a elaborarle Essere desensibilizzati Non vuol dire Essere neutrali Non significa Non sentire nulla Ma sentire tutto La tua tristezza Che dice Non ho ancora superato Quella cosa Il tuo senso di colpa Che insiste Ho paura di aver fatto Un torto a qualcuno La tua vergogna Che ti sussurra Temo di non piacere A qualcuno Se ti senti in ansia È perché Opponi resistenza E tenti spasmodicamente Di tenere tutto Sotto controllo Quando in realtà Cominci a capire Che è impossibile Sei stanco Di combattere Contro la persona Che sei davvero Contro chi Vorresti essere Sei irritato Perché hai represso La rabbia Troppo a lungo Sei depresso Escludendo eventuali Fattori biologici Perché le sensazioni Finora soffocate Tornano a galla E sei straziato Dalla fatica Di non farle riemergere Arrivare alla conclusione Che non puoi continuare così Che stai perdendo un'occasione Sentirti fuori strada Bloccato e disorientato Significa che stai diventando Consapevole Del fatto che le tue emozioni Vanno bene Così come sono Devi solo imparare Ad accettarle E a capire Cosa vogliono dirti Se avanzi lungo la strada Per raggiungere una meta E ti imbatti In un cartello stradale Che punta Nella direzione opposta Che senso ha Provare a cambiare Il verso della freccia? Allo stesso modo Non ha senso Cercare di intervenire Sulle emozioni Ma bisogna farlo Sulle azioni Reprimere le emozioni Che accompagnano Le esperienze Negarci il tempo Per elaborarle O forzare Uno stato emotivo Sono solo ostacoli Che ci poniamo Da soli Nel cammino Verso la pace interiore Le tue emozioni Non hanno nulla Che non va Ma devi ascoltarle Sul serio Non basta accettarle In modo superficiale Devi esplorarle A fondo Devi esplorare A fondo I tuoi istinti Decodificarne Il significato Più nascosto E il messaggio Che vogliono comunicarti Non esiste Un'emozione Che non valga la pena Di essere provata Cercare di cambiarle Di catalogarle Ingiuste o sbagliate Buone o cattive Legittime o meno E una perdita di tempo Ed energie La verità È che temi Di sentire qualcosa Che non vorresti Le emozioni Che ti spaventano di più Sono quelle Che ti indicano la via Il timore di seguirle Nasconde la paura Che gli altri Non accettino La nuova versione di te Quando decidi Che l'opinione Degli altri È più importante Della tua Accetti di passare La vita A combattere I tuoi istinti Nel tentativo Di assimilare I bisogni egoistici Di chi ti circonda Nel frattempo Ti fai sfuggire Un mondo Ascoltare Lasciarsi andare Concedere Seguire Percepire Sentire Fare esperienze A modo tuo La tristezza Non ti ucciderà E di per sé Ne è anche La depressione Ecco cosa ti ucciderà Fare muro contro muro Ignorare il problema Cercare una scappatoia Anziché affrontarlo Negarlo Soffocarlo Nasconderlo Nell'angolo Più recondito Del tuo subconscio Dove metterà radici E ti controllerà A tua insaputa Non è detto Che ti spingerà Al suicidio O che distruggerà Tutto il bello Che potrebbe Capitarti Anche Se non è da escludere Ma ti ucciderà Nel senso Che ti porterà via La capacità Di vivere Appieno Puoi lasciarti andare Sperimentare liberamente Le tue emozioni Oppure Puoi intorpidirti Fino a non sentire Più nulla Non puoi Decidere Quali emozioni Provare Puoi seguire Il loro flusso O nuotare Controcorrente La scelta È nelle tue mani Capitolo 8 Non tutte le parti Di te Ti rappresentano Immagina Di tirare fuori Dal tuo corpo Tutti gli organi Interni E disporli In fila Su un tavolo Ascolta il battito Ascolta il battito Del tuo cuore Lo guarderesti Dicendo Quello sono io? No Penseresti Piuttosto Quello è il mio cuore Ora ascolta Il tuo respiro Senti come lavora Insieme al cuore Entrambi in movimento Costante Anche se spesso Non ci facciamo Neanche caso Non diresti mai Io sono il mio respiro Ma Io respiro Adesso pensa Al tuo fegato Ai reni Alle ossa E al sangue Pensa alle tue gambe Alle dita Ai capelli Al cervello Osservali Da un punto di vista Oggettivo Sono pezzi Ingranaggi Di un meccanismo Più grande Quasi tutti Possono essere Rimossi E sostituiti E sicuramente Hanno tutti Una data di scadenza Analizzandoli In maniera ancora Più approfondita Vedresti che sono Composte a loro volta Da parti più piccole Le cellule Di cui non diresti Mai Sono io Diresti piuttosto Sono mie Ora rimettiamo Insieme i pezzi Perché non riusciamo Più a vederli Allo stesso modo L'energia Si concentra In maniera Preponderante Nel petto In gola E nella testa Tutto Si raccoglie Al tuo centro Non provi emozioni Nelle gambe O nelle braccia Ma nel cuore Gli organi Con i quali Tendiamo A non identificarci E l'energia Che invece percepiamo Come la nostra Vera essenza Coesistono Nello stesso spazio Se eliminassimo L'energia Cosa rimarrebbe Di noi? Cosa esiste In nostra assenza? Ci hai mai pensato? Intendo dire Ci hai mai pensato Davvero? Hai mai provato A soppesare Ogni singola parte Del tuo corpo Cercando di individuare Quelle che non esprimono La tua identità? Hai mai ragionato Su ciò che dà Vita ai tuoi organi Che li collega a te? Hai mai pensato Alla differenza Fra ciò Che consideri Tuo E ciò che sei Tu? Sapere chi sei Ti dà un fondamento Ti imprime Una traiettoria E' anche vero Che quando diamo Un nome Un significato A ciò che amiamo E reputiamo importante Creiamo aspettative E poi siamo obbligati A sforzarci Per mantenere le cose Entro quei parametri Se sforiamo Ci sembra di aver fallito Ne soffriamo Ci convinciamo Di poter applicare Un'idea statica A una creatura dinamica In continua evoluzione Come l'essere umano Ci torturiamo Quando non siamo All'altezza Delle aspettative Che noi stessi Abbiamo creato Credo che a volte Ci fossilizziamo Sul contenitore Perché non ci piace Il contenuto Ci sembra più importante Fare bella figura Con gli altri Che lavorare su noi stessi Avere un certo titolo Sul biglietto da visita Anziché pensare All'appagamento Che ci dà Il nostro mestiere Chiedere Giuri solennemente Di amarmi per l'eternità Invece di concentrarci Sull'amore Che riceviamo Nei piccoli gesti Di ogni giorno Bene Questo è tutto Fatemi sapere Se questo estratto Vi è piaciuto E se leggerete Questo libro Alla prossima Alla prossima Alla prossima